Noi non saremo mai quelli del posto di lavoro, noi saremo quelli dell'occupazione, che è un concetto ben diverso. Noi non siamo qui per il favoritismo, noi siamo qui per creare quello che oggi è un privilegio, un diritto, è una cosa completamente diversa. Vi stiamo dicendo di condividere con noi il nostro progetto. Noi abbiamo bisogno di collaborazione, noi abbiamo bisogno di consigliarci, di rapportarci con la gente. Questo è fare politica. Vi chiedo di affrontare questo 5 novembre con coraggio e determinazione. Vi chiedo di affrontare questo 5 novembre senza ascoltare i campanelli o senza ascoltare le favole che vi racconteranno fuori. Vi chiedo di affrontare il 5 novembre con consapevolezza, coscienza e responsabilità. La strada da qua il 5 novembre sarà lunga, ma tutto quello che sarà dopo il 5 novembre non sarà un punto d'arrivo, ma sarà un punto di partenza. Grazie. Io sono contento di essere qui accanto a un giovane candidato. Essere giovani è una opportunità che dura poco. Se la si sa cogliere e allora hai costruito il futuro. Un giovane a vent'anni deve mettere a disposizione il proprio entusiasmo, la propria voglia di fare e l'impegno che vorrà imparare. E allora lasciaci sperare, caro Gaetano. Fai in modo che tu possa uscire dal coro e possa essere, spero non soltanto tu, ma tanti giovani, la testimonianza di come ci si voglia accostare all'esperienza della politica dando il meglio di se stessi. Al Parlamento siciliano c'è bisogno di una ventata di entusiasmo, di vigore giovanile. E tu puoi rappresentarlo e ti auguro davvero di poter avere tutto il successo che meriti. Sappi che essere giovane è una straordinaria opportunità. Coglila al volo e traducila in esperienza di vita, io te lo auguro, con la saggezza del padre e del nonno, prima ancora che del candidato. Vi ringrazio tutti. Alle elezioni regionali del 5 novembre 2017 vota un giovane. Scrivi Gaetano Galvagno, lista Nello Musumeci presidente.